Prima di andare a vedere le uscite del 2005 dobbiamo parlare degli Shonen Jump Championships. Essi sono praticamente dei YTS in miniatura che venivano giocati in America. Di questi tornei abbiamo delle liste incomplete, tuttavia possiamo capire che Chaos nonostante gli hit sia ancora la strategia più forte del gioco. Un altro contender era sicuramente il Beatdown, un Beatdown che andava a giocare calabresi e piemontesi con lo scopo di togliere il vantaggio dal campo menando le mani. Questa competizione tuttavia elargiva anche una nuova carta ai vincitori, ovvero Cyberstein, un Magical Scientist per masochisti che fa presagire un ban in arrivo per quest'ultimo.